bene perfetto allora buonasera di nuovo partiamo ufficialmente con la seconda lezione anche oggi abbiamo oltre 440 partecipanti e quindi è una cosa molto importante oggi abbiamo la relazione del rettore Giorgio Ragusa dell'educandato di Milano che ringrazio con Giorgio insomma ci conosciamo bene siamo anche amici va bene Giorgio insomma ci stimiamo sicuramente tanto ti vedo volentieri buon pomeriggio a tutti ti vedo volentieri anche se è tanto tempo e non ci vediamo di persona ma 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 ci sarà occasione e mi approfitto per farvi conoscere la formatrice ma sarà con voi per tutte le prossime lezioni dal lunedì prossimo ma è stata una prova una prova anche tecnica di trasmissione la dottoressa eh la dottoressa Luciana eh Ventriglia che che insomma una una un'esperta di fama nazionale eh voi mettete il nome di Luciana Ventriglia su un motore di ricerca come in genere si fa sempre e non starò io a dirvi e a spiegarvi tante cose insomma scoprirete tante bellissime cose che la dottoressa eh vi dirà eh prossimamente io eh molto velocemente condivido un attimo lo schermo fatemi vedere se eh mi si è collegato il CD per farvi vedere tutto vi ricordo due cose importanti ma a parte il calendario e questo eh lo conoscete allora aspetta qui i miei percorsi eccolo qua benissimo condivido un attimo lo schermo quindi vi ricordo che è già possibile iscriversi al proseguimento del corso della dottoressa della professoressa Ventriglia a settembre dal 4 al 18 settembre che è già possibile iscriversi si sono iscritte quasi due già duecento educatori e che tutte le lezioni di questo corso quella di ieri quella di oggi e quella della dottoressa Ventriglia nei prossimi giorni saranno registrate e potranno essere ehm fruite come eh corso eh online in asincrono un mock da tutti quegli educatori che non hanno potuto eh che non sono qui presenti in questo modo quando faremo il 2 a settembre tutti gli educatori sia quelli che hanno seguito l'uno online che l'uno in streaming sono perfettamente allineati per poter seguire il corso della dottoressa Ventriglia il numero 2 ecco questo a me interessava un'altra cosa importante tra un po' vi manderò il link per le presenze tra un po' vi manderò il link le presenze una raccomandazione eh firmate una sola volta basta una volta perché altrimenti mi mandate eh in tilt il modulo google anche se poi è chiaro però trovo se no dei nomi replicati più volte quindi voi non vi preoccupate se dice ma avrò firmato se il modulo google vi dice risposta inviata è inviata non dovete aver paura la tecnologia eh fortunatamente eh ci aiuta in questo allora io prima di dare la parola ufficialmente al collega e amico eh Giorgio Ragusa che ringrazio ancora per la disponibilità vorrei lasciare la parola eh due tre minuti quattro quanto varrà la dottoressa Ventriglia perché credo che vi dia delle delle dritte che poi serviranno per dal lunedì prossimo per il suo corso eh dottoressa Ventriglia l'ascoltiamo volentieri allora il corso inizia giovedì no del lunedì prossimo noi il primo incontro ce l'abbiamo il giovedì quindici giugno sì la mattina dalle nove e mezza alle dodici e tanti intanto visualizzo il calendario mentre le parlo vai e mi fa piacere vedere tutte queste persone mi sento un carico di responsabilità perché eh ho mh sto impegnandomi molto perché possa veramente essere un percorso che sia utile per tutti e eh a questo proposito per evitare quello che viene criticato sempre cioè che si possa fare un corso in cui uno fa una erogazione chiusa di contenuti eh con il professor Tagliaferri eh si pensava non lo so se è già stato detto in in altri incontri non è stato detto ancora no ecco eh che eh potrebbe esserci eh per ogni convitto un responsabile come viene definito un tutor d'aula in modo tale che possa essere fare da ponte eh tra me e tutti i partecipanti e eh gli educatori che sono effettivamente tanti per cui non è possibile avere poi una eh lezione cioè un incontro che sia anche eh di condivisione di contenuti eccetera altra ehm attività che mi propongo eh di fare in questo percorso è quello eh di ehm lasciare del materiale di approfondimento e con la tecnologia avanzata di Webex eh ci sarà forse un contenitore dove possano essere inseriti dei documenti degli articoli eh che inviterò poi agli educatori a mh ad analizzarli approfondirli in modo da avere la volta successiva un feedback eh di quello che sono i loro commenti le loro riflessioni altro elemento che mi ero eh segnata è che mh eh praticamente ehm la mia proposta per vedere se c'è stato feedback eh se c'è stata ricezione da parte di quello che ho detto altrimenti faremo una lezione in cui io parlo e non si sa dove va a finire questo mio parlare eh si potrebbe eh inserire un sempre una serie di proposte di riflessioni eh in modo che sia una sorta poi di autovalutazione in che senso adesso questo non so se è possibile da parte di tagliaferri mi potrà dare una risposta avevo pensato che eh io presenterò una ogni tanto eh delle domande che sono a risposta chiusa e che eh di cui già comunico le risposte ma al sistema e se è possibile eh che il sistema stesso eh nel momento in cui viene gestito da parte del eh corsista eh possa dare risposta di eh sì eh il il i quesiti sono stati superati eh senza che ci sia necessità da parte mia di ricevere eh le loro risposte io potrò avere forse solo una cioè una fotografia di quante sono le persone che sono riuscite a ottenere il risultato penso che si possa fare almeno anch'io quando sono diciamo destinatari a una formazione viene fatto così che ci sono eh delle domande e poi le risposte eh il sistema manda il feedback al l'educatore stesso eh se ha risposto più o meno bene e ripropone le domande alle quali non sono state date delle risposte corrette. Che dice il professor Tagliaferri? eh ci studiamo ci studiamo credo che che sia possibile abbiamo i nostri tecnici informatici eh quindi sicuramente magari eh lei dottoressa mi manda il il materiale e poi magari un giorno facciamo un incontro online anche con un tecnico e cerchiamo di studiarlo anche all'inizio della prossima settimana tanto come io non mi ricordavo bene ma sì il primo incontro è giovedì prossimo quindi abbiamo eh più di una settimana di tempo per organizzarci. No, il prossimo è giovedì questo, dopo domani. Ah appunto quindi. Volevo dire giovedì allora vabbè ci organizziamo, ci organizziamo. No, scusate ma gli scrutini hanno gli scendi. Immagino, immagino. Allora dottoressa Ventria, lei se vuoi rimanere con noi può rimanere e ascoltare il collega Giorgio altrimenti poi ci sentiamo magari anche domani con con Roberta e e poi per giovedì eh a a tutti i corsisti dico che tra un po' metterò il link della presenza e che entro domani arriverà il link della lezione di giovedì tra due giorni. Grazie dottoressa Ventria e ora a questo punto do la parola al collega e amico Giorgio Ragusa eh rettore dell'educandato Setti Carraro di Milano per un suo intervento eh diciamo che coglierà gli aspetti giuridici anche di tutta l'inquadramento degli educatori. Bene Giorgio a te la parola. Grazie mille a Luciano eh collega e amico eh confermo è stato anche il mio predecessore come presidente dell'Agnès ehm devo dire a proposito che eh ringrazio molto Luciano per l'organizzazione di questo corso e per aver coinvolto diciamo sia gli educatori dei convitti nazionali e degli educandati statali che sono rappresentati dall'Agnès che gli educatori dei convitti ammessi che eh se ti disturo se ti interrompo Giorgio a proposito di questo mi ero scordato di dire che se riusciamo a a farla entrare tra un po' potrebbe arrivare il saluto della eh a questo punto a fine eh per non interromperti il saluto eh di Maddalena Venzo che è la presidente della rete convictus quindi ora risolveremo degli aspetti pratici ma in conclusione eh faremo fare un saluto anche a lei o al massimo eh prima della del giovedì prima dell'incontro ah ecco infatti però Maddalena ti dobbiamo fare entrare come coordinatrice tra un po' ti faccio chiamare da 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 un mio collaboratore che ti spiegherà tutto appena entra poi ti facciamo fare il saluto grazie Maddalena l'ho vista in chat prego Giorgio Ragusa. Sì anch'io la ringrazio devo dire che anch'io come presidente dell'Agnès e anche Luciano prima di me ha sempre cercato un rapporto fra l'Agnès e convictus perché sicuramente ci sono molte tematiche in comune ci sono delle differenze giuridiche fra eh le educazioni le istituzioni educative e i convitti annesse alle istituzioni scolastiche quando leggiamo nelle circolari in molte circolari c'è scritto il istituzioni scolastiche ed educative perché sono due realtà giuridicamente diverse ci sono le istituzioni scolastiche che possono avere anche un convitto annesso e poi ci sono le istituzioni educative che in realtà invece viceversa hanno delle scuole annesse e da qui si vede un po' che le cose sembrano l'una capovolta rispetto all'altro di fatto poi queste differenze non sono così marcate e soprattutto molti problemi pratici sono abbastanza simili in particolare appunto il personale educativo che c'è in entrambe dei servizi di convitto e semi convitto che ci sono generalmente sia nelle istituzioni scolastiche con convitti annesse sia nelle istituzioni educative. Ecco allora io condivido lo schermo se ci riesco e faccio vedere delle queste non sono slide di powerpoint ma è uno Sway e in sostanza è una presentazione che sta su internet io ho già mandato il link al Luciano che poi credo lo diffonderà a tutti gli iscritti per poter visualizzare queste diapositive con calma anche eh in futuro nei prossimi giorni o quando si intenda farlo. Ehm allora si parla parliamo un po' delle norme sul personale educativo e quindi si applicano come dicevamo sia al personale dell'educativo delle istituzioni educative sia al personale educativo dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche. Eh ecco una premessa va fatta diciamo che queste norme come vedrete eh sono generalmente eh vecchie sono norme diciamo che risalgono a qualche decennio fa come minimo e mh e soprattutto questo è uno di quei casi in cui spesso la realtà si discosta parecchio dalle norme. Quindi è molto probabile che andando ora a vedere assieme queste norme ciascuno di voi dica ma veramente non è così nella realtà in cui vivo io. Ehm perché man mano soprattutto le istituzioni educative ma anche credo i convitti annessi alle istituzioni scolastiche hanno diciamo affrontato i problemi riguardanti il personale educativo ciascuno un po' a modo loro, ciascuno a modo suo e ehm anche in relazione al contesto. Le nostre istituzioni vivono in contesti eh a volte molto diversi e quindi eh hanno problemi diversi o soluzioni diverse allo stesso problema. Quindi è molto facile che voi non riscontriate eh che ciò che ora andiamo a leggere nelle norme coincida effettivamente con la la vostra vita lavorativa. Ci saranno delle cose che probabilmente non corrispondono. Ehm è chiaro che i contesti sono molto diversi e sia diciamo si tratta di regioni italiane diverse ma poi c'è grande differenza anche fra eh convitti annessi e istituzioni educative. C'è anche differenza all'interno delle istituzioni educative. Noi lo vediamo sempre nelle assemblee nazionali dell'ANIES nei nei convegni che facciamo fra un'istituzione educativa e l'altra in in tanti settori e anche perché molto dipende dal dal luogo in cui si trova l'istituzione educativa. Sta in un piccolo paese in una grande città in una metropoli eh molto dipende anche dal rapporto con l'ente locale che è diverso fra città e città. Sapete che c'è una questione che dura ormai da quasi trent'anni dalla dalla legge ventitré del novantasei eh che stabilì e che le istituzioni educative dovessero essere finanziate interamente per le utenze e la manutenzione ordinaria. quella straordinaria dalle province da quelle che allora erano le province ma in realtà questa norma è stata applicata solo da alcune province che poi nel frattempo mh sono state trasformate in qualcos'altro eh ma non eh da altre quindi in alcuni casi viene applicata totalmente in altri casi non viene applicata affatto in alcuni casi viene applicata parzialmente e ci sono situazioni molto variegate e diversificate fra di loro. Diciamo che le istituzioni educative erano fino a qualche decennio fa un po' una specie di città-stato no? Quasi città autonome indipendenti dal sistema scolastico sapete che anche il personale delle istituzioni educative fino al diciamo a non molti decenni fa era del tutto separato praticamente dal personale delle scuole anche i rettori e non erano presidi ma venivano diciamo venivano svolti dei concorsi che erano riservati al personale delle istituzioni educative prima come vicerettore poi da vicerettore si passava al rettore e quindi c'era una separazione netta diciamo fra il personale delle istituzioni educative e quello delle istituzioni scolastiche e tranne magari per i docenti perché alcuni docenti erano titolari nelle istituzioni scolastiche ma poi venivano comandate dalle istituzioni nelle istituzioni educative diciamo c'erano tutta una serie di norme che differenziavano nettamente scuole da istituzioni educative queste norme sono state progressivamente abrogate in particolare diciamo con il decreto legislativo 165 del 2001 è stata abolita la figura del vice rettore e i rettori sono stati trasformati in dirigenti scolastici e quindi di fatto le istituzioni educative sono state assimilate quasi completamente a delle scuole delle istituzioni scolastiche e il personale educativo diciamo dove nasce andiamo ad analizzare la l'origine diciamo delle norme attuali che regolano il personale educativo che possiamo trovare già nell'articolo 121 del dpr 417 e 74 si tratta di uno dei famosi decreti delegati nel 74 vennero emanati quattro decreti delegati che riformarono diciamo vari aspetti della scuola italiana per esempio i decreti delegati sono stati alla base degli organi collegiali e gli organi collegiali della scuola italiana sono nati con un altro non con il 417 ma con un altro decreto delegato e ecco sono in questo articolo 121 cosa c'è scritto c'è scritto che sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello stato dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali quindi già si nota da questa prima frase che ehm qui non si usava il termine educatrice ed educatori ma si usava il termine istitutrici e istitutori e e quindi si nota che c'era una nascono due ruoli separati fra donne e uomini e le prime sono negli educandati che erano solo femminili e nei convitti nazionali femminili e nei convitti femminili annessi e gli altri gli istitutori sono solo nei convitti nazionali e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e quindi nascono questi due ruoli separati e i ruoli diciamo oggi malgrado le graduatorie siano unificate per certi versi questi ruoli sono in parte ancora separati e eh quando viene assegnato l'organico a un per la parte convittuale si tiene conto del fatto che questo organico sia maschile o femminile questo diciamo già ehm fa notare un po' la particolarità della situazione no? È una situazione unica no? Non esiste nessun'altra situazione in Italia assimilabile ehm ecco l'altra la seconda frase che troviamo in questo articolo 121 è molto importante perché è tutt'oggi diciamo la base giuridica ed economica del rapporto di lavoro di tutti gli educatori cioè al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari quindi diciamo fin dalla istituzione di questi due ruoli quindi dal 1974 eh si applica la eh norma per cui gli educatori sono equiparati innanzitutto dal punto di vista economico quindi il trattamento economico con gli insegnanti di quella che oggi chiamiamo scuola primaria eh ma anche lo stato giuridico ecco è chiaro che per quanto riguarda quindi lo stato economico c'è una perfetta diciamo coincidenza per quanto riguarda lo stato giuridico chiaramente eh fino ad un certo punto perché eh essendoci nel nei contratti nazionali poi delle norme specifiche che riguardano il personale educativo ehm quelle norme specifiche differenziano il personale educativo dal personale docente delle scuole primarie quindi non non c'è una perfetta coincidenza per quanto riguarda lo stato giuridico c'è per quanto riguarda sicuramente il trattamento economico ecco dal 1974 facciamo un balzo di 15 anni e arriviamo al 1989 eh quando fu emessa una circolare dal ministero ehm che riguardava diciamo il personale educativo in generale diciamo riguardava la gestione delle istituzioni educative eh ecco perché dobbiamo dire eh sostanzialmente uno dei problemi principali del della impostazione giuridica delle istituzioni educative è che le norme di legge che le regolano risalgono grosso modo agli anni venti del secolo scorso eh ci sono dei reggi decreti e alcuni riguardano i convitti nazionali altri riguardano gli istituti educati gli educandati statali ehm che sono in parte ancora in vigore e su cui si regge la normativa delle istituzioni educative così ovviamente invece non è per i convitti annesti alle istituzioni scolastiche perché la normativa delle istituzioni scolastiche ovviamente è molto più recente e è anche soggetta a continui aggiornamenti e revisioni no? La normativa delle istituzioni scolastiche viene modificata ogni anno sostanzialmente e quella delle istituzioni educative è grosso modo ferma da un secolo circa no? Dagli anni venti del novecento siamo negli anni venti del ventunesimo secolo e quindi non ci sono diciamo grandi modifiche legislative e si intuisce che alcune di queste norme sono di fatto inapplicabili ad esempio a proposito della distinzione fra uomini e donne di cui abbiamo parlato nel decreto delegato 417 questa distinzione c'era anche nelle norme diciamo in parte ancora scritta nel testo unico dell'istruzione a proposito dei dirigenti del di quelli che si chiamavano rettori dei convitti nazionali e direttrici delle eh degli educandati statali e sostanzialmente la norma risalente agli anni venti attribuiva la direzione degli educandati statali necessariamente a una donna visto che gli educandati erano femminili e i convitti nazionali maschili e infatti non a me risulta che da molto tempo non esistono i convitti nazionali femminili di cui qui si parla nel decreto delegato in generale i convitti nazionali erano tutti maschili e gli educandati statali tutti femminili e ecco e quindi addirittura la la norma che è ancora scritta nel testo unico nell'articolo 204 del testo unico sull'istruzione prevede che negli educandati femminili ci sia una direttrice che quindi non ha il titolo direttore ma quello di direttrice e che a differenza di quanto accade nei convitti nazionali non possa presiedere il consiglio di amministrazione ecco questa è una delle differenze fondamentali fra i convitti in generale diciamo le istituzioni educative e le istituzioni scolastiche nelle istituzioni educative c'è un consiglio di amministrazione che invece non esiste nelle istituzioni scolastiche ovviamente ecco però a presiedere questo consiglio di amministrazione nei convitti nazionali è il rettore che diciamo è tradizionalmente un uomo e nelle educandati statali e la direttrice non è la direttrice proprio perché la direttrice è una donna quindi ci deve essere un presidente esterno e questo diciamo in base a come erano scritte le norme negli anni venti a come in realtà sono ancora scritte di fatto però sono disapplicate queste norme per cui con l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti scolastici ora i dirigenti dei convitti degli educandati possono essere indifferentemente uomini o donne ecco però diciamo questo fa intuire come permandano ancora formalmente in vigore ma di fatto non applicate una serie di norme chiaramente desuete chiaramente anacronistiche che mal si conciliano con la costituzione repubblicana eh perché sono norme anti costituzione sono norme del periodo fascista ecco allora diciamo per intervenire non si è mai eh riusciti a fare modifiche legislative più volte sono state proposte delle modifiche legislative a queste norme che di fatto non si è mai riusciti a portare a compimento in Parlamento e quindi si interviene con norme invece di carattere secondario come note ministeriali circolari e quant'altro questa circolare del 1989 e stabilisce fra le altre due cose che sono di interesse diretto per il personale educativo diciamo c'è scritto tanto altro si può trovare facilmente in rete questa circolare la si può leggere parla un po' di tutto ciò che riguarda la gestione delle istituzioni educative ma in particolare due punti possono essere interessanti una è la l'autorizzazione in via sperimentale e in attesa che si perfezioni in sede parlamentare la previsione normativa ecco questa questa questo perfezionamento in sede parlamentare a tutt'oggi non è avvenuto quindi a più di trent'anni di distanza siamo a trentaquattro anni di distanza dalle emanazioni di questa circolare e tutt'oggi non c'è non c'è non solo non c'è questo perfezionamento ma non si vede neanche all'orizzonte e però diciamo questa circolare autorizza in via sperimentale la costituzione del collegio del personale educativo quindi un collegio in cui si riuniscono tutti gli educatori di una istituzione educativa e questo a partire proprio dall'anno scolastico 1988 89 inoltre è sempre a proposito della partecipazione degli educatori agli organi collegiali e in questo circolare è precisato che il personale educativo partecipa nell'ambito dell'orario di servizio con compiti consultivi ai consigli delle classi frequentate dagli alunni che gli sono affidati con esclusione del momento della valutazione quindi si precisano due fatti primo che il personale educativo deve partecipare alle riunioni dei consigli di classe delle classi che sono affidati a questi educatori secondo che non deve però partecipare agli scrutini e questo diciamo è chiaramente uno degli elementi fondamentali che differenziano il personale docente dal personale educativo cioè la valutazione che è riservata al personale docente questo ovviamente può avere diciamo lati positivi e negativi per il personale educativo può sembrare diciamo una diminuzio può sembrare diciamo un diritto in meno rispetto ai docenti ma in realtà anche una finalità positiva perché questo fa sì che il rapporto fra l'alunno e l'educatore sia di tipo diverso rispetto al rapporto fra l'alunno e l'educatore perché l'alunno non deve essere valutato dall'educatore e quindi si può creare un rapporto probabilmente molto più stretto che consente all'educatore di vederlo crescere negli anni di seguirlo diciamo negli anni e di aiutarlo in questo percorso di crescita eh al di là del discorso didattico cioè l'obiettivo eh non è ehm non è eh semplicemente la didattica ma è la crescita globale dell'alunno ieri nel nel nell'incontro della rettrice eh di Montagnana eh peronese eh si metteva in evidenza proprio questo compito fondamentale dell'educatore che è la crescita globale dell'alunno eh non semplicemente la la didattica anzi prevalentemente invece gli aspetti extra didattici e e in questo senso diciamo gli educatori svolgono un ruolo fondamentale anche nel senso eh che possono anche mediare nei rapporti fra il il l'alunno e i docenti e possono anche diciamo fungere un po' da elemento di collegamento spesso diciamo si mette in evidenza che a scuola si creano delle fratture fra docenti ed alunni e in certe situazioni in particolare e lì può essere decisivo il ruolo del personale educativo quindi diciamo in realtà anche una razio questa esclusione dal momento della valutazione così come una razio ovviamente invece la partecipazione con compiti consultivi ai consigli di classe per la programmazione cioè è fondamentale che la programmazione dei consigli di classe sia integrata fra eh docenti ed educatori perché anche la programmazione educativa fa parte della programmazione di classe ed istituto ehm ecco nel nel questa diciamo ehm assimilazione dei degli educatori e docenti dal punto di vista giuridico ha anche una conseguenza sul piano disciplinare quindi qui andiamo al testo unico dell'istruzione cioè il decreto legislativo duecenta novantasette del novantaquattro quindi stiamo facendo un salto di cinque anni no? Eh ci eravamo lasciati con la circolare dell'ottantanove cinque anni dopo viene emanato quel testo unico sull'istruzione di cui parlavo che eh contiene quelle norme che dicevo sulle istituzioni educative per chi vuole andarle a vedere sono gli articoli duecentotre, duecentoquattro e duecentocinque che riguardano un po' la gestione e l'amministrazione delle delle istituzioni educative ma poi contiene invece anche degli articoli che riguardano in generale il codice disciplinare del personale docente e che quindi si applicano anche al personale educativo e vedete qui ho incollato due articoli cioè l'articolo quattrocento novanta due comma due e l'articolo quattrocento novantotto comma uno così diciamo come esempio perché ovviamente sono ci sono tanti altri articoli sono dal quattrocento novanta due a seguire tutti quelli che vengono dopo quindi anche quelli che vengono che sono in mezzo fra il quattrocento novantadue e il quattrocento novantotto e che riguardano ehm diciamo le sanzioni disciplinari applicate al personale docente o educativo. L'elenco delle sanzioni qual è? Si va dalla meno grave cioè la censura alla più grave cioè la destituzione. in mezzo c'è la sospensione dall'insegnamento dall'ufficio fino a un mese, la sospensione da oltre un mese a sei mesi e e poi nel caso della c'è anche la sospensione per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione durante eh trascorso questo tempo c'è dopo i sei mesi per lo svolgimento di compiti diversi da quelle inerenti alla funzione docente. Eh quindi diciamo questo per dire semplicemente che il codice disciplinare che si applica al personale educativo è lo stesso che si applica al personale docente ed è quindi diverso invece da quello che si applica al personale ATA perché invece per il personale ATA eh questo codice disciplinare non si trova nel testo unico ma si trova nel contratto e ed è stato anche innovato più volte eh anche non molti anni fa ehm e quindi è completamente diverso. Ehm ad esempio ecco come dicevo ho incollato qui l'articolo quattrocentonovantotto perché per ciascuna di queste sanzioni ovviamente si prevede poi se abbiamo tempo magari più aspettati andiamo più in dettaglio a vedere eh diciamo in quali casi diciamo si applica ciascuna di queste sanzioni qui a titolo d'esempio ho incollato in quali casi si applica quella più grave cioè la destituzione. La destituzione che consiste nella cessazione dal rapporto di impiego è inflitta per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione per attività dolosa quindi che in cui è stato fatto volontariamente un danno che abbia portato grave pregiudizio alla scuola alla pubblica amministrazione agli alunni alle famiglie per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola ufficio sui quali in relazione alla funzione si abbiano compiti di vigilanza. Quindi ehm sapete che in generale diciamo il personale docente educativo non dovrebbe ehm gestire somme. Eh fra l'altro ora sapete che c'è l'obbligo nella scuola come in tutte le pubbliche amministrazioni dei pagamenti attraverso i sistemi elettronici eh i genitori pagano la scuola non eh neanche con bonifici o con contanti tanto meno con contanti ma attraverso il pago in rete non il sistema pago in rete che traccia tutti i movimenti di denaro. Comunque in generale è chiaro che l'uso illecito la distrazione di beni della scuola ehm comporta la destituzione. E ecco attenzione che anche per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola ufficio eh sui quali ci siano compiti di vigilanza. Poi ci abbiamo il caso di gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni o per concorso negli stessi e ecco classico esempio diciamo quando ehm si riceve una un ordine di servizio per iscritto è obbligatorio ottemperarvi. Poi eventualmente diciamo almeno che ovviamente non costituiscono un reato eh l'unico caso in cui si può nonotemperare a un ordine di servizio è il caso in cui costituisca un reato allora eh ci si può sempre rifiutare di commettere un reato ovviamente. Eh però se non eh deve essere ovviamente palese che si tratti di un reato. E se non c'è un reato si deve comunque intanto adempiere poi eventualmente ci si può rivalere nel nel presso il giudice del lavoro. Ovviamente tutto il rapporto di lavoro fra l'educatore e l'istituzione è poi eh giudicato dal giudice del lavoro in sede civile diciamo. Ehm e quindi ecco non non eh rispettare una un nell'esercizio delle proprie funzioni una disposizione legittima e è un può essere un grave atto di inottemperanza. Poi per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio. Questo è un altro punto fondamentale. Eh è il caso sostanzialmente sarebbe un caso di corruzione o concussione. se si riceve un compenso o un beneficio in relazione a affari trattati per ragioni di servizio eh se lo si chiede se lo si chiede è ehm eh concussione. Se comunque lo si accetta è corruzione e e quindi in questo caso è prevista la destituzione così come per gravi abusi di autorità. Ecco questa è un altro un'altra situazione che in casi estremi potrebbe prodursi cioè il caso di un educatore che abusi gravemente della sua autorità nei confronti degli allievi a lui affidati. Eh un grave abuso di autorità e può essere sufficiente per la destituzione. Ecco poi sono state aggiunti nel duemila e sedici altre due casi che comportano il licenziamento ehm in attesa diciamo che in realtà venga modificato tutto il codice disciplinare. Perché nel contratto del duemila e sedici all'articolo 29,3 c'è scritto che nelle more di una sezione negoziale che deve rivedere il codice disciplinare eh sono aggiunte a questo articolo quattrocentonovantotto comma uno che abbiamo appena letto altre due lettere la lettera G e la lettera H. Noi avevamo letto la A e la F ci sono anche la G e la H. La G per atti e comportamenti o molesti a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale anche ove non sussista la gravità o la reiterazione. Attenzione che ehm poco fa abbiamo visto nella lettera F non si parla di semplici abusi di autorità ma di gravi abusi di autorità. Nel caso invece di eh atti di natura sessuale e semplici molestie attenzione possono essere anche semplici molesti a carattere sessuale anche se non sono gravi e eh sono comunque sufficienti per il licenziamento. E l'altro caso è eh quello di dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire al personale che le ha reso un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale. Eh molti non sanno che una semplice dichiarazione mendace in una domanda di mobilità ma in generale in una qualsiasi domanda di inclusione in una qualsiasi graduatoria scolastica dalle graduatorie di istituto alle CAE alle graduatorie dei concorsi e così via o alle graduatorie per la mobilità e una dichiarazione falsa comporta diciamo non solo l'esclusione da quella graduatoria ma eh nel caso in cui si tratti di personale in servizio il licenziamento. Ecco questo per fare un esempio se avremo tempo andremo a vedere e poi invece gli altri articoli che qui abbiamo saltato quelli che sono intermedi fra il 492 e il 498 perché in effetti sarebbe opportuno leggerli attentamente tutti. Intanto possiamo invece passare a un'altra fonte normativa no? Perché quello di cui abbiamo parlato tranne diciamo le ultime due lettere G e le lettere H che sono in un contratto. Quelle precedenti invece sono articoli del testo unico sull'istruzione. Ehm ecco andiamo a vedere il contratto nazionale della scuola. Cosa dice sul personale educativo? Anche qui ovviamente selezioniamo solo alcuni articoli non tutti quelli che riguardano il personale educativo ma quelli più significativi. Eh allora innanzitutto diciamo il primo è l'articolo 128 qui stiamo parlando del contratto del 2006 e però gli articoli che andiamo a vedere sono tuttora in vigore perché non sono stati modificati dal contratto poi del 2016-17 e quindi eh sono pienamente in vigore. Ehm ecco nell'articolo 128 c'è una definizione di che cos'è l'attività educativa. Eh anche ieri l'educatrice, la rettrice veronese accennava l'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale nonché di socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative nonché alla definizione delle rispettive metodologie anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento. e quindi in questo articolo diciamo abbiamo una definizione sostanzialmente di attività educativa da cui un po' si eh capisce come è ehm variegata no? Come eh consista di tante cose diverse l'attività educativa perché eh da una parte c'è l'organizzazione degli studi degli allunghi no? Ma c'è anche l'organizzazione del loro tempo libero ci sono iniziative culturali, sportive, ricreative e e il tutto eh si intuisce e sempre diciamo eh con una particolare attenzione agli aspetti psicopedagogici perché l'obiettivo eh ovviamente come si vede quindi non è semplicemente come dicevamo prima l'attività didattica, non è semplicemente l'istruzione o la formazione degli alunni ma è in generale la crescita, i promuovere i processi di crescita sul piano umano, sul piano civile, sul piano culturale eh e la socializzazione degli allievi e nell'articolo successivo invece il centoventinove ehm si parla delle attività funzionali del personale educativo ehm cioè quelle attività che non sono propriamente attività educative ma sono funzionali alle attività educative così come per i docenti ci sono le attività didattiche e le attività funzionali alle attività didattiche che non sono quindi attività didattica ma sono funzionali alle attività didattiche. Ecco l'azione funzionale della all'attività educativa comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione poi qui diciamo ho saltato eh altri punti però sostanzialmente diciamo utili alla formazione degli allievi perché li ho saltati perché sostanzialmente poi nel comma 2 eh vengono c'è un elenco un po' più dettagliato ma il comma 1 è un po' generico e nel comma 2 diciamo si dice che eh ci sono è un po' generico perché riguarda le attività collegiali c'è una differenza tra il comma 1 e il comma 2. Il comma 1 riguarda quelle a carattere collegiale quindi sostanzialmente sono tutte le riunioni di tutti i tipi possibili. Per esempio come dicevamo prima la partecipazione in ehm con titolo consultivo alle riunioni dei consigli di classe ehm che non siano scrutini. E poi ci sono gli adempimenti individuali cioè dire ehm gli adempimenti fra gli adempimenti individuali rientrano tre tipi di attività come vedete cioè la prima è eh la preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio culturali, sportive, ricreative e la seconda i rapporti individuali con le famiglie e con i docenti eh è chiaro che questo punto c'è anche nelle attività funzionali e dei docenti i rapporti individuali con le famiglie. Nel caso degli educatori ci sono sia i rapporti individuali con le famiglie sia i rapporti individuali con i docenti. Poi abbiamo all'accoglienza e alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata e uscita dal convitto o istituzione educativa e degli allievi semi convittori al momento dell'uscita nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto o istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa. Ecco quest'ultimo punto ovviamente si riferisce ai cosiddetti convittori esterni cioè quegli alunni che stanno in un convitto ma non frequentano le scuole annesse a quel convitto ma scuole annesse ad altre ma scuole diciamo anche istituzioni scolastiche normali che non sono annesse a nessun convitto. Ecco in questo caso diciamo rientra nei con nell'attività funzionale anche l'accompagnamento dal convitto alla scuola esterna e viceversa. Poi rientra nell'attività funzionale comma 4 all'attività educativa la partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Quindi ad esempio quella che stiamo facendo che è una formazione che è un'iniziativa di formazione e può rientrare benissimo nelle ore di attività funzionale e tutta la formazione del personale educativo e attività funzionale. Ecco nell'articolo 130 si parla invece delle attività aggiuntive educative. Ecco qual è la differenza quindi fra l'articolo 129 e l'articolo 130. Nel primo si parla di attività funzionali quindi sono quelle attività poi vedremo fra poco in quali ore si fanno che non sono aggiuntive quindi rientrano già nel compito dell'educatore e quindi non sono retribuite oltre allo stipendio sono retribuite sostanzialmente già dentro lo stipendio. Le attività aggiuntive educative sono invece retribuite con il fondo del miglioramento dell'offerta formativa oppure con altri fondi quindi sono sostanzialmente al di fuori dello stipendio. Questa è la differenza fondamentale tra il 129 e il 130. Ecco in cosa possono consistere? Qui abbiamo un elenco di quattro tipi di attività. Le attività diciamo relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggior raccordo fra convitto, istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro. Ecco questo è ovviamente un grande tema, cioè il rapporto fra scuola, mondo del lavoro e convitto. Quindi qui diciamo quello che normalmente è una coppia, da una parte la scuola e dall'altra il mondo del lavoro qui diventa un triangolo, sono tre i protagonisti. C'è anche il convitto o l'istituzione educativa e la scuola che come abbiamo detto potrebbe anche non essere ammessa al convitto, potrebbe essere una scuola che non è ammessa a quel convitto. Ecco chiaramente questo tema ci fa pensare al discorso dei tutor su cui torneremo più avanti perché sapete che è abbastanza recente invece l'esclusione degli educatori dalla figura, dalla possibilità di avere il ruolo di tutor. Poi abbiamo la partecipazione a sperimentazioni e le attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e in particolare gli enti locali anche per iniziative aperte al territorio sulla base di apposite convenzioni. Infine la partecipazione a progetti promossi dall'Unione Europea quindi complessivamente diciamo da questo elenco cosa emerge quali sono le attività aggiuntive educative sono tutte quelle in cui l'istituzione ha rapporti in qualche modo in qualunque modo con enti esterni quindi con altre scuole oppure con il mondo del lavoro quindi con imprese di qualsiasi tipo diciamo e oppure con enti locali in generale enti locali a qualsiasi livello no dalla dalla comune alla provincia alla regione e oppure sperimentazione ecco quando si parla di sperimentazione ovviamente quindi c'è un rapporto con il ministero oppure con l'Unione Europea progetti promossi dal dall'Unione Europea no quindi in generale sono tutte quelle attività in cui il convitto l'istituzione educativa hanno un rapporto con enti esterni pubblici privati o di qualsiasi genere ecco nell'articolo 131 si parla invece dell'attività di progettazione a livello di istituzione e si parla del cosiddetto progetto educativo il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che per gli aspetti didattici sono contenute nei POF qui ovviamente il contratto fu scritto quando esistevano ancora i POF oggi sarebbero i PTOF sono contenute nei PTOF delle scuole frequentate degli aerei a tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva quindi qui diciamo si si indica il fatto che nel collegio dei docenti è prevista la partecipazione anche di rappresentanti del personale educativo per l'elaborazione del PTOF perché sostanzialmente il PTOF deve comprendere non solo le attività didattiche ma anche le attività educative ecco nell'articolo ecco faccio notare che non è citato in nessuna norma l'esistenza di un collegio invece in cui ci siano tutti i docenti e tutti gli educatori come abbiamo visto qui si parla del collegio docenti in cui ci sono rappresentanti di educatori e nella circolare del 1989 si parlava del collegio degli educatori in cui quindi ci sono solo gli educatori in realtà in alcune situazioni sono stati istituiti dei collegi integrati fra docenti ed educatori che ad oggi non trovano però una previsione normativa in un articolo contrattuale o legislativo l'articolo 132 del contratto parla delle attività di collaborazione con il dirigente scolastico e quindi qui si dice che ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001 che istituì la dirigenza scolastica e che diciamo è la base un po' del ruolo del dirigente scolastico in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi cosa che ovviamente non è mai avvenuta il dirigente scolastico può avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti ecco qui diciamo e chiaramente visto che gli aspetti retributivi e normativi non sono poi mai stati regolamentati sostanzialmente si applica per analogia ciò che si applica ai ai docenti collaboratori del DS cioè che vengono retribuiti con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e diciamo che questa ci sono anche altri aspetti sapete che c'è una norma nel contratto che dice che queste persone retribuite col fondo istituto non possono essere più di due e chiaramente per quanto riguarda i docenti c'è un problema nelle istituzioni educative perché ci sono più scuole annesse quindi bisogna capire come interpretarla se due si intende due per ogni scuola o due complessivamente per tutte le scuole annesse per quanto riguarda diciamo il personale educativo dovrebbe essere un po' più chiaro che non possono essere più di due ma ci possono essere dei dubbi anche perché possono sempre essere istituite diciamo altre figure e che non sono collaboratori diretti del DS ma è sempre possibile istituire figure come coordinatore di plesso coordinatore di settore coordinatore di classe e così via sapete che per esempio anche i coordinatori di classe non sono una figura attualmente esplicitamente prevista da in qualche norma e di fatto invece sono ormai diventati negli ultimi decenni una delle figure principali per questo anche l'istituzione ora della figura del tutor viene incontro alla necessità di formalizzare diciamo un po' qualche cosa che di fatto esiste nella scuola ma non è stata mai formalizzata da nessuna parte e poi ancora c'è l'articolo 133 sempre del contratto che riguarda gli obblighi di lavoro per quanto riguarda specificamente il personale educativo e quindi per l'attività educativa ivi compresa l'assistenza notturna è determinato un orario settimanale di 24 ore programmabile su base plurisettimanale da svolgere in non meno di 5 giorni alla settimana in aggiunta all'orario settimanale di cui al comma 2 è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali esse sono utilizzate sulla base di una programmazione plurisettimanale per le attività di carattere collegiale funzionale all'attività educativa e fino a 5 ore settimanali per il completamento del servizio di esistenza notturna ecco questa è una norma diciamo che differenzia molto i docenti dagli educatori perché sapete che nel caso degli eh dei docenti sono fissate diciamo in maniera netta le ore di attività didattica no che sono a seconda del grado di istruzione eh 18 per la scuola secondaria 22 più 2 per la scuola primaria e così via e e poi diciamo sono fissate in maniera netta anche le ore funzionali che sono 80 complessive durante l'anno scolastico nel caso invece degli educatori come abbiamo visto ci sono prima le 24 ore settimanali di ehm di attività educativa ma a queste 24 si aggiungono quelle 6 che possono essere utilizzate in tanti modi diversi possono essere utilizzati fino a 5 per il completamento del servizio di assistenza notturna e quindi almeno una in quel caso deve essere invece dedicata alle attività funzionali e perché a differenza dei docenti quindi non c'è un monte ore annuale per le attività funzionali ma c'è un monte ore settimanale cioè le eh attività funzionali possono essere al massimo 6 ore a settimana e ma non è neanche settimanale perché siccome ci si può basare su una programmazione plurisettimanale questo può essere fatto anche su più settimane no? Quindi eh non non 6 ore per ogni settimana ma 6 ore mediamente su una su più settimane su una programmazione plurisettimanale poi il personale educativo è tenuto inoltre ad assolvere a tutti gli impegni individuali attenenti alle attività funzionali di cui al comma 2 perché prima avevamo visto per questo c'erano perché vedete queste fanno parte delle attività di carattere collegiale funzionale all'attività educativa e ma poi ci sono invece quelle individuali che sono fuori da queste 6 ore questa eh questo è vero anche per i docenti cioè quelle attività che abbiamo visto all'articolo 129 comma 2 non fanno parte di quelle collegiali quindi non fanno parte delle 6 ore la preparazione i rapporti individuali con famiglie e docenti l'accoglienza e la vigilanza e l'accompagnamento non fanno parte delle 6 ore funzionali così come per i docenti i colloqui individuali con i genitori ad esempio non fanno parte delle 80 ore funzionali all'attività didattica ecco qui un'altra questione che si pone e che spesso crea confusione è ma queste ore settimanali in quali periodi dell'anno si debbono ehm svolgere cioè riguardano solo i periodi in cui c'è lezione o anche i periodi in cui non c'è lezione e su questo diciamo c'è un parere dell'ARAN del 2021 eh in cui eh si dice che si fa presente che non vi è alcuna previsione contrattuale che limita l'obbligo orario e le attività educative alle sole giornate di lezione tenuto conto che l'attività educativa ha un valore più ampio che la semplice lezione spesso si fa confusione pensando che l'attività di convitto di semiconvitto ci sia solo nei giorni di lezione ovviamente no c'è anche al di fuori dei giorni di lezione quindi non c'entra nulla l'attività degli educatori con l'attività dei docenti i giorni di lezione e i giorni in cui non c'è lezione anche nei giorni in cui non c'è lezione possono essere previste dal progetto educativo attività educative di convitto o di semiconvitto anzi normalmente i convitti non sono aperti solo nei giorni di lezione ma sono aperti anche in giorni in cui non c'è lezione ecco un'altra questione riguarda l'organico educativo per l'organico educativo innanzitutto c'è una questione di fondo cioè come si fa oggi a diventare educatori e attualmente non sono stati previsti concorsi per educatori e quindi le uniche assunzioni di ruolo avvengono dalle GAE che però c'è le graduatorie ad esaurimento che però ormai si avviano ad essere esaurite un po' in quasi tutte le province italiane o comunque in molte province italiane quindi diciamo si è in attesa di per diciamo l'assunzione del ruolo educativo di nuovi concorsi per il personale educativo l'ultimo risale a più di vent'anni fa quindi sono oltre vent'anni che non c'è un concorso per il personale educativo e quindi diciamo c'è questo tema anche perché diciamo non sono stati non solo fatti ma neanche annunciati concorsi per personale educativo quindi il mancato annuncio sembra addirittura voler intendere che si intende il ruolo ad esaurimento ecco comunque un problema che spesso si pone come si calcola l'organico diciamo del personale educativo di ogni eh istituzione e qui diciamo mi riferisco però alle istituzioni mh diciamo in realtà sia eh educative sia ai convitti ammessi perché vedete che il decreto del presidente della repubblica 81 del 2009 e c'ha al comma 1 c'è scritto la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali degli educandati femminili nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici nonché al numero complessivo dei semi convittori e delle semi convittrici ecco notate che anche qui si ritorna sulla distinzione netta come c'era la distinzione netta fra convi educatori ed educatrici c'è la distinzione netta fra convittori e convittrici semi convittori e semi convittrici ecco allora si dice che entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1 dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile a quello femminile quindi come dicevamo all'inizio la separazione fra personale educativo maschile e femminile esiste ed è ancora in vigore le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei semi convittori e delle semi convittrici di cui al comma 1 ai seguenti parametri e ci sono due situazioni diverse la situazione in cui c'è una presenza di convittori e convittrici in quella istituzione e la situazione in cui l'istituzione non ha convittori e convittrici ma ha solo semi convittori e semi convittrici allora nel primo caso con almeno 40 convittori vengono dati cinque posti stessa cosa se ci sono 40 convittrici ecco è interessante diciamo notare che addirittura si è voluto precisare che vedete che sono separati il punto 1 e 2 no perché il punto 1 riguarda i convittori maschi punto 2 e convittrici femmine 40 determinano sempre cinque posti per ogni ulteriore gruppo di 10 convittori e convittrici un posto per ogni gruppo ulteriore di 20 semi convittori e semi convittrici un posto e se ci sono però almeno 30 convittori e almeno 40 semi convittori sei posti da qui vedete che si deduce per ogni gruppo di 80 convittori è aggiunto poi un posto oltre a quelli di cui al punto 3 quindi vedete questa tabella consente di fare il calcolo dei posti da questa tabella cosa si deduce anche che c'è un numero minimo di convittori che è 30 perché come vedete il numero più basso che compare qui con almeno 30 convittori o convittrici però se oltre questi 30 convittori o convittrici ci sono anche i 40 semi convittori sei posti se invece non esistono convittori o si dovrebbe interpretare se i convittori sono meno di 30 e quindi è come se non ce ne fossero e allora diciamo con almeno 70 semi convittori e semi convittrici si generano quattro posti e per ogni gruppo ulteriore di 20 semi convittori e semi convittrici un posto naturalmente diciamo leggendo questa tabella cosa si può dedurre che c'è un numero minimo di convittori che è 30 e un numero minimo anche di semi convittori che è 70 almeno che diciamo non ci siano sia convittori che semi convittori allora bastano 30 convittori e 40 semi convittori ecco però ci sono diciamo questa è la norma generale ci sono in realtà nel comma 4 però un po' di deroghe diciamo a questa norma generale cioè qualora l'istituzione educativa sia umica in ambito regionale i posti di istitutore o istitutrice ecco qui è da notare che torna pur essendo nel 2009 questo è un decreto del 2009 torna la terminologia istitutore o istitutrice e non educatore o educatrice che pensavamo fosse rimasta agli anni 70 possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito da questo comma 3 di cui abbiamo visto ecco nel caso previsto la 3 lettera b numero 1 numero 1 quale sarebbe questo quando abbiamo almeno 70 semi convittori allora la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di 20 semi convittori o semi convittrici però i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana e nei periodi delle festività scolastiche quindi in realtà diciamo queste questi numeri potevano essere derogati secondo l'articolo 20 del decreto del 2009 ma nel frattempo nel 2011 è intervenuta la legge gelmini che all'articolo 19 comma 7 del decreto legge 98 del 2011 ha scritto che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed alta della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011-2012 quindi sostanzialmente cosa dice la legge gelmini che il personale educativo e in realtà anche il personale alta sono bloccati cioè l'organico complessivo del personale educativo del personale alta non può mai crescere ma deve essere bloccato a quello che c'era nell'anno 2011-2012 questo è anche il motivo per cui in molte istituzioni educative non vengono applicati questi parametri scritti qui ma il numero effettivo di posti di educatore è inferiore rispetto a quello che vediamo in questa tabella ecco poi è intervenuta per a proposito diciamo di come si entra nei ruoli del personale educativo educativo è intervenuto nella legge 107 la famosa legge sulla buona scuola c'è un comma il comma 117 dell'articolo 1 sapete che quella legge ha un unico articolo fatto di un sacco di commi e il comma 117 dice che il personale docente educativo in periodo di formazione di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sentito il comitato per la valutazione sulla base che è stato modificato dal comma 129 del della legge sulla buona scuola perché è stato previsto che in particolare il tutor diventa parte del comitato per la valutazione questa è una delle modifiche mentre prima il tutor non veniva considerato parte della del comitato per la valutazione e quindi sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor leggo che c'è scritto si è abbassato l'audio mi sentite ancora spero di sì sì qualcuno risponde sì quindi mi sentite ancora ok sì sì grazie ho capito che si sento ecco qui diciamo c'è scritto questa l'istruttoria di un docente però d'altra parte tutte le norme sull'anno di valutazione di formazione di prova indicano che il tutor deve essere preferibilmente della stessa classe di concorso del candidato alla conferma in ruolo quindi diciamo è ragionevole che in realtà il tutor sia un educatore anche se la norma a rigore prevede che il tutor sia un docente è abbastanza ragionevole che invece il tutor conosca la specificità del ruolo educativo e quindi sia un educatore in ogni caso diciamo questo comma ha colmato un vuoto legislativo perché fino al 2015 in realtà non era normato in maniera chiara il periodo di formazione di prova del personale educativo è stato formato in maniera chiara a partire dalla legge sulla buona scuola quindi ogni tanto diciamo ci si ricorda del personale educativo come abbiamo visto abbastanza raramente però ecco un tema che ha che è caratteristico del personale educativo e che invece ovviamente non esiste per il personale docente è il servizio notturno sappiamo che normalmente i docenti non lavorano di notte tranne magari durante i viaggi di istruzione o gli scambi culturali e mentre il personale educativo è chiamato anche a svolgere servizio notturno ecco il servizio notturno del personale educativo ha dato origine a tante questioni e varie interpretazioni sul perché c'era il dubbio che si dovessero applicare quindi agli educatori le norme che riguardano il servizio notturno delle i lavoratori notturni che sono disciplinate dal decreto legislativo 66 del 2003 e sue modifiche integrazioni e il quale decreto legislativo a sua volta è la conseguenza di una direttiva europea sempre del 2003 la direttiva europea del 4 novembre 2003 che all'articolo 17 però prevede dei casi di deroga cioè prevede che eh possono andare in deroga alle norme generali che riguardano il lavoro notturno le attività di guardia sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone in particolare quando si tratta di guardiani o portinaio di imprese di sorveglianza ecco allora ehm diciamo che eh si può intendere eh ricompresso qui il servizio educativo intendendolo ricompresso qui può essere derogato dalle norme generali e infatti se andiamo in realtà a leggere il decreto legislativo 76 del 2003 innanzitutto c'è una definizione all'articolo 1 di lavoratore notturno che eh diciamo restringe il campo e raramente può essere applicato a a un educatore perché dice che colui che svolge la propria attività durante il periodo notturno per almeno tre ore al giorno in modo abituale e continuativo lavoratore notturno orizzontale o per almeno tre ore per ottanta giorni lavorativi nell'arco di un anno lavoratore notturno verticale dalle limiti minimo vari proporzionati ecco diciamo che nel più delle volte non succede che un educatore faccia ottanta turni notturni in un anno e quindi già esce dalla definizione di lavoratore notturno ma in ogni caso l'articolo 2 dello stesso decreto legislativo permette di risolvere il problema alla radice perché dice che le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al testo unico dell'istruzione no? Questo è il testo unico dell'istruzione di cui abbiamo parlato poco fa e quindi diciamo gli educatori non sono lavoratori notturni e ad essi non si applica il decreto legislativo 66 2003 quindi diciamo il servizio notturno degli educatori da cosa è regolamentato? È regolamentato dal contratto dal contratto nazionale anche perché diciamo il contratto così come è stato modificato nel 2016 stabilisce che i criteri riguardanti ad esempio le sezioni staccate ai plessi e soprattutto alla lettera M i criteri e modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente educativo e data nonché così via sono diciamo sono materie di contrattazione integrativa quindi è riservato al contratto integrativo anche diciamo tutta la materia che riguarda l'orario del personale educativo i criteri relativi all'organizzazione dell'orario del personale educativo e quindi diciamo che può il contratto di istituto fissare una durata massima del turno notturno e ovviamente non bisogna però violare quello che è scritto sempre nel contratto all'articolo 53,2 dove si dice che nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può di norma essere superiore ad 8 quindi di norma ecco attenzione che dicendo di norma vuol dire che si può anche avere delle eccezioni un dipendente non dovrebbe fare più di 8 turni notturni al mese per cui se ne fa 8 al mese è difficile che ne faccia più di 80 all'anno perché normalmente il convitto nei periodi estivi è chiuso e quindi diciamo i mesi effettivi al massimo sono 10 ma forse non si arriva neanche a 10 e quindi 8 al mese non si superano gli 80 all'anno il numero dei turni festivi effettuabili nell'arco da ciascun dipendente non può essere di norma superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previ acquisizione della disponibilità del personale cioè diciamo il turno notturno non si fa quando non ci sono convittori ecco attenzione che questa norma diciamo eh può sembrare ridondante ma non lo è perché ehm il fatto che quando non ci sono convittori non si fa il turno notturno vuol dire che invece l'assenza di convittori o di semi convittori non esplode che si possa fare il turno di urno cioè che il personale sia in servizio anche se nell'istituzione non ci siano convittori o semi convittori l'orario notturno va dalle ventidue alle sei del giorno successivo e qui bisogna distinguere che cos'è un turno notturno festivo da un turno eh che sia notturno o festivo perché la tabella sette allegata al contratto definisce anche qual è il compenso cioè c'è un indennità di lavoro notturno e festivo che è fissata da questa tabella sette per il personale educativo e nella stessa tabella anche per il personale ata e che però ha cifre diverse e per il personale educativo è stabilito che il turno che è notturno o festivo ha questa indennità di diciannove euro complessivamente tutto il turno ha l'indennità di diciannove euro non diciannove euro per ogni ora ovviamente e il turno notturno e festivo invece ha l'indennità di trentasette euro e cinquanta e quindi bisogna distinguere se il turno è notturno o festivo dal turno che è notturno e festivo che cosa sono i turni notturni e festivi sono quelli che vanno fra le 22 del giorno pre festivo e le 6 del giorno festivo oppure le 22 del giorno festivo e le 6 del giorno successivo quindi sostanza nel caso in cui il festivo di cui parliamo è la domenica sono quelle che comprendono o la notte fra il sabato e la domenica o la notte fra la domenica e il lunedì allora in questi casi chi effettua questo turno ha diritto a questa indennità di lavoro di lavoro notturno e o festivo bene abbiamo diciamo ad anni più recenti e diciamo alle ultime cose che un po' hanno riguardato gli educatori una in conseguenza della legge sulla buona scuola no perché vi ricorderete che la legge sulla buona scuola ha istituito la cosiddetta carta del docente e cioè cinquecento euro annui per come c'è scritto qui e questo era fissato diciamo proprio in decreto attuativo della legge per spese eh culturali o anche digitali di vario tipo ecco c'è una questo diciamo ha creato una questione che è durata negli anni e sul fatto che ai agli educatori spettasse o meno la carta del docente la eh sentenza della Cassazione trentadue uno zero quattro del duemila e ventidue quindi dell'anno scorso sembra aver chiarito questo punto anche se di fatto forse non è stata ancora realmente applicata questa sentenza perché ha stabilito che questa carta eh è attribuita al personale docente nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo adesso assimilato sul piano funzionale proprio dal testo unico sull'istruzione rubricato perché l'articolo 395 del testo unico dell'istruzione ha come titolo funzione docente e dentro c'è scritto la funzione docente intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura di contributo all'elaborazione di esse di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità e infatti come avevamo già detto il contratto della scuola lo include include il personale educativo nell'area professionale del personale docente e stabilendo anche nell'articolo 25 che il personale docente educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali è collocato nella distinta area professionale e personale docente rientro in tale area tutti i docenti delle varie scuole e anche il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili per cui diciamo qui potrebbe essere ci può essere interpretata una differenziazione fra il personale educativo delle istituzioni educative e quello dei convitti annessi perché qui si parla del personale educativo dei convitti degli educandati femminili ma non si parla del personale educativo dei convitti ammessi alle istituzioni scolastiche mentre nelle altre aree abbiamo tutti i docenti e quindi ovviamente nasce qui una nuova questione una nuova che chiaramente darà origine a nuovi processi e nuove ricorsi nuovi processi comunque di fatto il principio in linea generale sembra esserci che almeno per quanto riguarda la carta del docente e gli educatori ne avrebbero diritto questo diritto credo che non sia ancora effettivo ma forse semplicemente per motivi tecnici perché il ministero non ha ancora ottemperato a questa sentenza e ecco diametralmente opposta è l'opinione del ministero invece sull'altro tema cioè quello del tutor e dell'orientatore perché una fac che è stata emanata dal ministero del dell'istruzione del merito la fac numero 11 sul tema dei tutor sapete che è stata istituita di recente sono state istituite queste due figure una è quella dell'orientatore che è unico per tutto l'istituto quindi coordina diciamo l'attività di orientamento di tutto l'istituto e poi c'è invece quella del tutor che non è unica per tutto l'istituto ma l'istituto ne ha un certo numero che può anche diciamo in parte autodecidere e attualmente diciamo però è limitato solo al triennio delle scuole secondarie di secondo grado ma è l'intenzione nelle linee guida dell'orientamento che sono un'attuazione di quanto previsto nel PNRR e di potenziare l'orientamento fin dalla prima media e quindi istituire poi queste figure di tutor dalla prima media alla all'ultimo anno della scuola superiore e vedo che non si legge cosa non si leggono le slide non si vede quindi qua questa fac numero 11 qualcuno risponde sì sono sfocate comunque in ogni caso le avrete poi ci sarà un link che vi farà fornito dal convitto di Arezzo attraverso quel link avrete tutto a disposizione e questa è l'ultima diciamo sulla fac numero 11 sostanzialmente cosa ha risposto il ministero alla domanda gli educatori e i convitti educandati possono ricoprire il ruolo di docente tutor o di orientatore il ministero ha risposto che il decreto ministeriale 63 del 2023 all'articolo 6 come 1 e 2 prevede che l'istituzione scolastica dovrà procedere all'individuazione dei docenti tutor e del docente orientatore tra coloro che abbiamo concluso positivamente la formazione proprietaria l'accesso alla formazione è previsto per i soli docenti pertanto non è previsto che gli educatori possano ricoprire questi ruoli e perché bisogna prima fare un corso di formazione ma il corso di formazione è limitato solo ai docenti e chiaramente questa è una questione su cui si potranno inscare come per quanto abbiamo visto per la carta docente questioni anche perché questa interpretazione sembrerebbe contraddire come abbiamo visto anche alcuni propri articoli del contratto avevamo visto poco fa quando abbiamo parlato dei vari articoli del contratto che nell'articolo 130 invece sembra un compito chiarissimo affidato agli educatori anche il rapporto fra scuola e mondo del lavoro che è in parte diciamo anche se non completamente quello che faranno i tutor almeno in alcune situazioni anche se ovviamente diciamo il l'orientamento non è solo rivolto al mondo del lavoro ma è anche rivolto alla istruzione universitaria o para universitaria diciamo quindi comunque questa è attualmente la posizione del ministero su questo argomento ecco sono le 6 meno un quarto quindi io mi fermerei qua se non so se c'è luciano luciano interrompo la condivisione non so se c'è luciano vuole dare la parola alla coordinatrice della rete convictus oppure vuole che qualcuno faccia delle domande via chat mentre aspettiamo il rettore di arezzo se qualcuno ha delle domande da scrivere in chat io posso rispondere immagino che molti scriveranno che quello che ho detto non corrisponde alla loro esperienza nella loro realtà e questo come avevo detto in promessa succede di certo perché ecco c'è una domanda possibile avere un chiarimento sul totale delle ore sul totale delle ore funzionali annue e come abbiamo visto diciamo bisogna distinguere due tipi di ore funzionali quelle collegiali e quelle individuali se consideriamo solo quelle collegiali al massimo possono essere sei per ogni settimana no è chiaro che in un anno vengono un numero esorbitante perché come abbiamo visto in teoria queste sei ore ci sono in tutte le settimane dell'anno anche quando non c'è elezione anche nelle settimane in cui non c'è elezione purché ovviamente il personale non sia in ferie ecco c'è il rettore tagliaferri luciano prego eccoci buonasera e niente io mi scuso se non ho seguito sempre ma correvo in qua là per gli scrutini credo che sia stata che sia stato un incontro proficuo se ho capito bene giorgio si è arrivato alla fine vedo ci sono un po di domande non so se vogliamo altri cinque minuti rispondere però ecco noi dovete considerare una cosa che questo corso di formazione che questo è il primo di tutta una serie di corsi di formazione che faremo e non escludo non escludo che faremo anche proprio dei momenti come un question time un confronto tra noi rettori e dirigenti dei convitti annessi anche per così rispondere a tutta una serie di domande sulle quali per esempio il rettore Ragusa è molto ferrato perché da sempre diciamo anche all'interno dell'ANIES ha seguito quegli aspetti più normativi e giuridici che poi insomma sono stati importanti per tutti quindi io direi che per stasera possiamo finire qui anche se credo che ci sia la possibilità di avere un saluto eh di di Maddalena ora verifichiamo se alla fine è stato possibile l'ingresso di Maddalena per un saluto finale e eh ringrazio anche la Luciana Ventriglia la vedo qui collegata noi ci vediamo giovedì bene ci vediamo giovedì e sicuramente metteremo in campo al di là del corso uno in streaming il corso due ma magari un corso di eh per sviscerare delle questioni giuridiche e delle questioni eh di vario tipo ripeto sotto forma di question time sotto la forma di di dibattito chi lo sa vediamo cosa la tecnologia ci eh ci permette e questo nell'interesse dei convitti degli educandati dei convitti annessi perché il personale educativo è eh fondamentale proprio per lo sviluppo dei convitti stessi quindi io chiedo eh a a se la collega Maddalena è in linea vedo Massimiliano Pinizzotto che in realtà è eh un un assistente amministrativo che è al piano di sopra e che Maria puoi sentire Massimiliano se questo collegamento è quello di della collega Maddalena vi rubo soltanto un attimo eh vediamo se riusciamo a far eh parlare ehm vi ho rimandato il link anzi ve lo rimando ancora per chi non ha firmato il link delle presenze e mi unisco ai ringraziamenti che fanno al rettore Ragusa perché eh io l'ho sentito tante volte parlare è molto preciso molto eh accurato insomma poi anche molto chiaro e a volte non è facile anche se uno sa tante cose riuscire a dirle in maniera chiare il link del corsi li avrete tutti alla fine del corso quindi non vi preoccupate anche perché ripeto sarà possibile attivare un corso in streaming allora ehm se avete un attimino di pazienza eh il Massimiliano Pinizzotto vedete lì sta cercando di fare entrare la collega Maddalena Venzo che è la presidente della rete Convictus che ritengo sia importante che anche lei ci faccia un saluto e siccome siamo in diretta quindi ora io non posso fare né un intermezzo né una pubblicità però eh vi posso dire che io come il collega Giorgio che è stato presidente eh nel dal duemiladiciotto al duemilaventuno va bene Giorgio dell'ANIES io sono stato presidente dal duemilaquindici al duemiladiciotto e possiamo dire che eh Giorgio lo sa perché era nel direttivo nel duemilaquindici abbiamo preso l'ANIES che funzionava però diciamo l'abbiamo eh fatta funzionare meglio e soprattutto eh abbiamo cercato di creare una una rete una relazione una relazione ieri la collega di 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 la collega Emanuela c'era quella la e o con l'accento senza no e la e senza accento è e è l'unione tra le persone la relazione che si sta creando perché a questo punto a livello nazionale abbiamo oltre quattrocentosessanta persone che si sono messe insieme e che stanno lavorando ed è giusto quello che leggo dobbiamo ridare dignità al nostro ruolo ed è giusto dare dignità vuol dire anche informarsi crescere eh io ormai ho esperienza di educatori dei convinti annessi e dei convinti nazionali e la formazione e la qualificazione credo sia molto importante. Io direi questo se riusciamo a far entrare la collega altrimenti ci farà un saluto ehm dottoressa Ventriglia eh ci farà un saluto giovedì eh all'inizio del suo corso quindi io direi Maria eh ho qui eh mia moglie e la mia eh fidata collaboratrice a questo punto va al piano di sopra digli a Massimiliano che non importa e faremo entrare la collega ehm giovedì prossimo in occasione della lezione di Luciana Ventriglia e così ci farà un saluto eh a nome dei convinti annesi. Grazie a tutti voi, grazie al rettore Ragusa, grazie a Luciana Ventriglia e ci vediamo giovedì sul sullo stesso canale. Va bene? Grazie, grazie a tutti voi e grazie a Luciano della spendita organizzazione. Arrivederci, ciao. Buona serata a tutti.